Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Per l'avatiero non si arrende, lo dice un'esperta di gossip oggi riguardo alla storia ormai finita con l'ex Mirko Brunetti. Nonostante la separazione avvenuta ad agosto, sembra che i contatti tra i due non siano mai stati interrotti. Potrebbe trattarsi di una pausa di riflessione anziché di una rottura definitiva. I fan di Mirko e Perla ci sperano, mentre sui social spunta una segnalazione clamorosa. Qualcuno avrebbe incontrato Perla per strada di recente e lei avrebbe parlato apertamente della situazione con Brunetti. Una nuova svolta si è verificata nella telenovela Perla Mirko. I due ex Temptation si sono lasciati nuovamente ad agosto, dopo un ritorno di fiamma nella casa del grande fratello. Pare che una conversazione segreta tra Mirko e la sua ex Greta Rossetti abbia causato la rottura, avvenuta durante la festa di compleanno di Federico Fusca. Nonostante la separazione, Perla e Mirko sembrano mantenere un canale di comunicazione aperto, lasciando intravedere una possibile speranza di riavvicinamento. Nonostante le voci e i gesti sui social, sembra che ci sia ancora comunicazione tra Perla e Mirko, suggerendo che la situazione non sia definitivamente conclusa. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, ma la testimonianza di una fan anonima sembra confermare che i due ex continuano a sentirsi. Sebbene manchino prove concrete, sembra che l'amore tra Perla e Mirko sia ancora vivo. La speranza di un riavvicinamento